A volte invece proseguono questi tabù e rimangono all'infinito. Questi numeri cosa ci indicano? Ci indicano che solamente in questo momento, prima della sosta delle nazionali, solo in Italia, solo la Juventus ha un vantaggio di 4 punti rispetto alla seconda. Mentre negli altri campionati il vantaggio non va oltre una partita di vantaggio, nel senso che 4 punti già sono più di una partita di vantaggio, mentre negli altri campionati il distacco è minimo. Certo sono pochissimi punti, perciò tutto può cambiare, però più che altro io cerco di andare oltre. Sulla carta poi tutto nel calcio può cambiare, però sulla carta quest'anno in Italia non c'è campionato, non c'è storia, perché la Juventus è andata a prendere il migliore giocatore che aveva il Napoli, ovvero Iguain e se non era il migliore poco ci manca il giocatore della Roma che aveva lo scorso anno Viero Pjanic. Con questi due il gap è aumentato di fatto rispetto alle uniche due inseguitrici sulla carta perché Milan e Inter hanno comunque delle rose improponibili per lo scudetto, Lazio e Fiorentina peggio che mai, perciò sulla carta non ci dovrebbe essere storia. Un conto è la suspense, il pathos, questo rende il calcio unico, uno sport unico perché tutto può essere ribaltato fino all'ultimo minuto. Magari il campo dimostrerà il contrario di quello che stiamo dicendo noi e io ovviamente me lo auguro, però se togli il pathos, togli la speranza, nel calcio è tolto tutto, la speranza anche se la togli nella vita si toglie tutto. Perciò è pesante vedere un campionato assistere ad un campionato in cui già sai come andrà a finire, i titoli di coda si possono già intravedere. Invece mentre nella Premier League e nella Liga ma anche quest'anno ci potrebbero essere delle sorprese sia nella Liga N che appunto già abbiamo visto che in testa ci sta l'inizio di Mario Balotelli. Anche in Bundesliga c'è stata questa grandissima partenza da parte di Carlo Ancelotti però le altre dietro non mollano e bisogna vedere poi se alla Lunga sarà campione anche quest'anno il Bayern. Comunque tornando invece alla Premier e in particolar modo torniamo sulla Liga è chiaro che è un bellissimo spettacolo che stiamo vedendo, tutte le squadre insomma in testa classifica possono vincere i campionati anche se poi alla Lunga arriveranno un po' più o meno sempre le stesse. Però in questo momento sembrerebbe che ci sia più competizione. Io voglio rimanere appunto in tema di numeri Maxi e dico questo che il Barcellona sì c'è stata questa sconfitta pesante, non utile nasconderlo contro il Celtavigo, l'abbiamo commentata. A volte ho letto anche su Facebook, non so se ti è capito anche a te Maxi su vari gruppi dedicati al Barça, dei commenti un po' forse, non dico forse contro di noi ma in generale contro un po' il giornalismo che tende molto ad analizzare nello specifico quello che è successo magari andando pure in maniera anche a gamba tesa su alcuni giocatori però fa parte del nostro mestiere. Se dobbiamo dire che è tutto bello, tutti sono buoni, tutti sono bravi, è ovvio che il Barcellona è stata per anni la squadra più forte del mondo e forse lo sarà anche quest'anno anche se lo deve dimostrare con i fatti quest'anno. Però che facciamo Maxi? Io e te stiamo a dire solamente quanto è bello e bravo il Barcellona. È ovvio che stiamo qui per analizzare quello che è successo. Poi magari fra quattro giorni le analisi, le dinamiche saranno completamente diverse e Testegen si riscatterà la grande. Tra l'altro ho visto anche dei video in cui ha fatto delle bellissime parate. Non so se hai visto questo video che circolava in rete, c'è stata una sintesi su tutte le grandissime parate che ha fatto Testegen. Perciò ecco una battuta dal resto che però io voglio analizzare adesso in maniera freddo, in maniera positiva. Ma sai qual è questa mia analisi positiva Maxi? È che il Barcellona è ancora in corsa per il campionato e tutto dipende da lei. Sembrerebbe un'assurdità quello che sto per dire. Non lo è perché se il Real Madrid avesse vinto tutte le partite e secondo me erano tutta la portata, ovvero Villarreal in casa, le barre in casa e la Spalmas fuori, in questo momento il Barcellona stava 8 punti dalla vetta. E per cui pure se poi magari vincerà sia in casa che fuori classe e classico, guadagnava 6 punti, guadagnerebbe 6 punti sul Real Madrid. Se il Real Madrid ne aveva 8, più del Barcellona non dipendeva più la vittoria finale dal Barcellona, ma comunque già alla settima giornata doveva sperare nei passi falsi del Real Madrid. Invece adesso comunque devi fare un campionato pensando solo a se stessa, perché sì, il Real Madrid e l'Atletico Madrid hanno due punti di vantaggio, ma ci sono gli sconti diretti. Perciò comunque il ritorno al Real Madrid si deve affrontare una volta, manca l'andata. Mentre l'Atletico Madrid lo si deve comunque affrontare nel ritorno, seppur al Real Madrid, però a Vicente Calderon, però il Barcellona può vincere tranquillamente, può passare in testa e fregandosene altamente, scusate questo francesismo, dei risultati dell'Atletico Madrid e del Real Madrid. Ecco, devi fare una corsa su se stessa. Non era semplice, perché è già stupito il Real Madrid e l'Atletico Madrid è partito male pareggiando con le prime due partite che nessuno si aspettava. Esatto. Perciò, insomma, sta andando male, tra virgolette, il cammino non è perfetto, il cammino del Barcellona ha troppe sbavature, però le altre la stanno mantenendo in corsa. Io aggiungo anche un attraverso a quello che dici, perché la stessa cosa, una partenza sbagliata, probabilmente per quel casino, uso questo termine un po' inappropriato, però per far capire, tra Marcellino e la dirigenza del Villareal ha fatto sì che il Villareal sta in Europa League e non in Champions League, perché il Villareal è una bella squadra, ha anche un giocatore italiano, un attaccante, Sanzone, che sta esplodendo bene. È stato convocato a nazionale. Esattamente, bravo Stefano. e l'Atleti Club, anche, perché non ci dimenticiamo, ha incontrato la seconda giornata al Barça, ha perso la prima giornata a Ghion, contro il Ghion in quel momento a casa era veramente al Molinon, e poi c'è il Siviglia, che prendeva tanti gol, ma ne faceva tanti, appena aggiustato, e abbiamo visto il pareggio 0-0 a Torino contro la Juventus in Champions, e il Siviglia sta lì. Quindi, queste sono, diciamo, il quadro. Poi sicuramente si perderanno, probabilmente perderemo subito, andando avanti a Bilbao e Villareal. Ma attenzione al Siviglia, per me il Siviglia si gioca uno dei primi quattro posti fino all'ultima giornata del campionato. Non so se, spero di no, il primo, ma attenzione al secondo, al terzo e al quarto posto. E poi comunque una cosa fondamentale, possono, hanno tutte le capacità per togliere punti alle grandi. Bravissimo, bravissimo. Al di là del campionato, al di là del titolo, comunque possono togliere punti all'Atletico Madrid, all'Almadrid. Speriamo non al Barcellona. No, no, certo, questo è fuori riduzionale. Voglio, su questo però, un giudizio da parte di Luca. Se ritieni che la Liga sia diventato il campionato più equilibrato, io parlo tecnicamente perché poi, come velocità di gioco, come è la Premier, ancora è superiore. Ma la Liga, secondo me, tecnicamente ha dei giocatori anche nelle piccole squadre che sono di una qualità tecnica superiore al resto d'Europa. Pensi che la Liga sia appunto diventata il campionato migliore del mondo, d'Europa, e che questa incertezza si porterà fino all'ultima giornata? Beh, io penso che la Liga sia molto più equilibrata di quello che si dica, sicuramente di quello che si pensi in generale. Perché l'abbiamo visto anche in Europa in questi ultimi anni, molto spesso si va a passare la Liga come un campionato a due, a tre, comunque Barcellona, Real Madrid, Barcellona, Real Madrid. In realtà, poi sì, in Champions ci sono Barcellona, Real Madrid, Atletico, però poi in Europa League, vai a vedere, c'è il Siviglia, qualche anno fa è arrivato... Che vincono. Che vince sempre il Siviglia, poi c'è il Bilbao che arriva... Come vincono in Champions League sempre, diciamo, le squadre della Liga, perché Real Madrid, Barcellona, Real Madrid, quel finale addirittura poi capita sempre... È emblematico, le ultime tre Supercoppe europee sono... Solo squadre spagnole. Solo squadre spagnole, che significa che in Europa vincono sempre loro. Quindi, evidentemente, parlando di squadre, di qualità di squadre, non c'è solo il Barcellona o Real Madrid, altrimenti le altre non vincerebbero quello che hanno vinto. Poi, alla fine, sì, per me il campionato lo vincerà o il Barcellona o il Real Madrid, o al limite l'Atletico, però... Occhio all'Atletico pure. L'Atletico bisogna sempre stare attenti. Magari il campionato, come accade sempre, lo vinceranno Barcellona o Real Madrid, ma perché sono loro nettamente più forti delle altre. Non si tratta di una debolezza... Per me farebbero la stessa cosa negli altri campionati, Barcellona o Real Madrid. Hanno un divario considerevole rispetto alle altre, però in questo inizio si è mostrato poco, comunque, perché... Anche se sei molto più forte, poi lo devi dimostrare e... Le altre squadre non ci stanno. Il Siviglia, comunque, è una squadra che dà del filo da torcere a tutti, l'ha dimostrato con la Juve, quindi credo che lo farà anche col Barcellona e con Real Madrid. Il Bilbao è sempre una squadra insidiosa, il Villareal l'abbè visto col Napoli, è una squadra l'anno scorso, una squadra molto difficile da affrontare, quindi io credo che alla fine, alla lunga, preparranno le qualità del terzetto di testa, Barcellona e Real Atletico. Però penso che sia un equilibrio destinato a durare almeno per un po', perché comunque la qualità c'è, non bisogna sottovalutare le squadre della Liga, anche perché sarebbe stupido, sarebbe... E qui vorrebbe a dire non guardare quello che è successo negli ultimi anni in Europa. Poi in giro addirittura si sentono delle eresie pazzesche, dell'assurdità. Ho sentito pure inteso per qualcuno, ha detto che Messi in Italia farebbe 10-15 gol, Suarez 15-20. Come se difese del Crotone e del Pescara fossero impenetrabili. Questa è una cosa che, per esempio, come ci ascoltano anche il movimento pegnistico nelle altre parti d'Europa e anche del mondo, e quindi saluto sempre con affetto Alberto Calogero da Buenos Aires. Noi viviamo una situazione che gli inglesi hanno vissuto, Stefano io e te che, insomma, seguiamo il calcio estero da tantissimi anni, insomma, io da metà dell'anni 80. Tu più o meno la stessa cosa, ci ricordiamo che gli inglesi pensavano che tutto quello che è fuori, al di là della manica, già lo pensavano prima negli anni 30, 40, 50. Poi quando vincevano tutto, poi buttati fuori per il problema degli hooligans, pensavano ancora che loro erano i più forti. E noi oggi, in Italia, si pensa che il campionato italiano, i giocatori italiani... Non so su quale base. Io parlavo l'altro giorno con un amico, gli dicevo guarda che se disgraziatamente ti vengono a dire in televisione o sui giornali che questo non è così, il prodotto non si vende più. E quindi è difficile. Sky Italia è stata anche abbastanza, voglio dire, coraggiosa quest'estate a fare questi reportage con Gianluca Viali, no? Vi ricordate? Certo, ho cercato sempre di metterla in positivo perché si realizzerà. Noi sappiamo bene che non si realizzerà perché se il Napoli gioca ancora al San Paolo... Con sempre meno spettatori. Con sempre meno spettatori, l'Italia... Guarda, l'altro giorno, Corriere dello Sport e Tutto Sport, che sono, lo diciamo per chi non è italiano, ci ascolta, sono due giornali della stessa catena editoriale. La Gazzetta non le fa, la Gazzetta dello Sport non le fa queste cose. No, ma vero, vero. Riportava che la Liga... Di un alto livello, tutto rispetto per Corriere dello Sport e Tutto Sport. Riportava che la Liga è un campionato che sta perdendo spettatori. Allora ci vuole, a Roma si dice, vabbè non lo dico, a faccia di bronzo, ok? Per due giornali sportivi italiani per dire che la Liga perde spettatori che rappresentano una nazione calcistica che è la nazione d'Europa che perde più spettatori dagli ultimi dieci anni. Cioè, veramente, ma fatte gli affari tuoi, guarda i problemi a casa tua. Cioè, non puoi dire la spam, beh, ma la Liga sta perdendo spettatori. Anche qui a Roma, ormai, quanti spettatori in meglio? La Liga, lo sapete perché la Liga sta perdendo spettatori? Ve lo spiego io perché sta perdendo spettatori. Perché ha avuto, c'è nella prima divisione, delle squadre quest'anno che hanno stati da 15.000-20.000 posti, come l'Eibar, come l'Eganess. Ecco, se c'è di nuovo il Saragozza, immagino io, o se c'è di nuovo... Faccio solo un esempio, l'Almeria che gioca nello stadio dove sono stati fatti i miei giochi del Mediterraneo, che comunque i suoi 30.000-20.000 posti lì fa sempre. Ma di che cosa stiamo parlando? Il Tenerife che è in Serie B, che c'è uno stadio più... c'è uno spettatore di più della Spalmas. Ma non puoi dire che la Liga sta perdendo spettatori. È una cosa incredibile. Si sanno proprio leggere i numeri. Incredibile. Ma no, non si vogliono leggere. Certo. Quanti spettatori fa in media all'Olimpico di Roma? Quest'ultimo anno e mezzo, due, penso abbiano abbassato solo Roma e Lazio la media di tantissimo. Perché comunque, al di là dei risultati, i tifosi della Roma e della Lazio hanno sempre fatto il pianone allo stadio. Magari la Lazio un po' di meno perché già c'era una contestazione in atto con lo dito. Però sempre è stata due tifoserie molto calde attaccate alla squadra. E invece in questi ultimi due anni, per vari motivi, comunque sono lunghi da spiegare, però è proprio diminuito in maniera consistente il numero di persone che va a vedere la partita. Quindi credo che sia un problema molto più grave il nostro e quello della Liga che comunque non è un problema. Probabilmente è dovuto al, come diceva Massimiliano, al numero degli spettatori delle squadre piccole che sono in questo momento in Liga. Penso che la crisi economica avrà potuto... Beh, quello pure, certo, quello è un altro fattore che incide, ovviamente. Ovviamente, in tutti i paesi. Ma certo.